Musica Ben ritrovati tifosi rosa nero, lo avevamo preannunciato con il titolo della news di questa mattina sul nostro portale Tutti insieme verso la Juventus e dunque il Palermo si è allenato questo pomeriggio allo stadio Renzo Barbera Tanti tifosi che sono venuti a sostenere i nostri ragazzi che hanno assistito all'allenamento In particolare dopo il riscaldamento i rosa nero hanno sostenuto un test in famiglia del quale adesso vi proponiamo le immagini Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.